Ben trovati, questo è un breve video di introduzione all'architettura gotica. L'architettura gotica si sviluppa a partire dal XII secolo in Europa, in particolare nasce in Francia e si diffonde anche nelle principali nazioni europee, in particolare in Germania, in Inghilterra, ma anche in Spagna e in Italia. In particolare in Italia prospererà fino al periodo rinascimentale, nel 400, quando si svilupperà appunto il rinascimento, sostituirà l'architettura gotica. Nelle altre nazioni invece ha avuto dei percorsi differenti, in particolare in Inghilterra, diciamo che il gotico continua da svilupparsi sino alle soglie dell'epoca industriale. Le caratteristiche dell'architettura gotica, che adesso vedremo nelle prossime diapositive, sono sicuramente un grande verticalismo. Abbiamo visto in passato come l'architettura romanica è un'architettura che tende a rimanere ancorata a terra, pensando anche alla facciata della chiesa di San D'Ambrogio a Milano, si sviluppa in orizzontale. Qui ci troviamo di fronte a delle chiese che si sviluppano in senso verticale, tendono verso il cielo. In particolare questo si può realizzare grazie all'utilizzo di alcuni accorgimenti e di alcuni elementi strutturali, che sono in particolare l'arco a sesto acuto, l'arco rampante e l'utilizzo quindi dei contrafforti in modo differente. Da questa sezione al lato possiamo vedere come l'arco rampante permette di alleggerire la struttura e poi il contrafforte che sta alla fine dell'arco rampante permette alle forze della volta di scaricarsi nel nocciolo centrale di inerzia, quindi di non permettere una frazione ma soltanto compressione. In questo modo si riusciva ad ottenere una struttura molto più leggera. Molto utilizzate sono le volte a crociera, i pilastri a fascio che decorano i pilastri in modo molto bello, rendendoli molto più ricchi di quello che erano nel periodo sicuramente romanico. Le viande sono sempre a croce latina, le paredi diventeranno molto sottili e spesso con delle ampie finestre. Viene utilizzata la pietra, soprattutto pietra tagliata in piccoli blocchi proprio per agevolare il trasporto. In questa immagine vediamo un po' come questi elementi di cui abbiamo parlato si realizzano proprio nelle varie chiese. Chiaramente questa struttura verticale, questa concezione verticale della struttura ha anche un significato simbolico. È questa ricerca del cielo, il tendere verso il cielo, il tendere verso Dio, e quindi tutta questa architettura ha questo spiccato verticalismo. Tutti questi accorgimenti, archi rampanti, pinnacoli, contrafforti, pilastri a fascio, tendono proprio a realizzare questo obiettivo, quindi a costruire delle strutture eleganti molto sviluppate verticalmente. Ecco qui lo possiamo vedere ancora meglio. La struttura diventa molto più leggera, molto più ricca e molto più articolata. In particolare qui vediamo proprio nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi come questo discorso degli archi rampanti è stato realizzato, quindi alleggerendo notevolmente la struttura. Dicevo prima di come spesso le murature erano molto sottili. Di fatto queste chiese gotiche possono essere paragonate ai moderni edifici in cemento armato, ai telai in cemento armato, dove appunto ci sono i pilastri e tra un pilastro e l'altro c'è una tamponatura. Qui funzionava in modo analogo, nel senso che la vera e propria struttura portante della chiesa erano questi pilastri dove andavano a scaricare le volte a crociera. Tra un pilastro e l'altro di fatto la muratura non aveva funzione portante, per cui in alcuni casi poteva essere sostituita. Normalmente veniva questa muratura arricchita con delle finestre. In alcuni casi, come questo della Santa Ciapelle di Parigi, di fatto l'intera struttura muraria tra un pilastro e l'altro viene sostituita con delle vetrate, ottenendo un effetto molto particolare. In questa chiesa entrando c'è proprio questo grande effetto luminoso di questa luce colorata che filtra attraverso queste ampie vetrate e proprio con un effetto molto particolare e molto bello. Adesso vediamo una breve carrellata delle principali chiese gotiche, di alcune delle principali chiese gotiche, partendo dalla cattedrale di Chartres, Chartres in Francia, vicino a 100 km circa da Parigi. Vediamo qui la pianta, possiamo vedere appunto come questa pianta è molto articolata, come la maggior parte delle chiese gotiche. In particolare veniva usato il deambulatorio. Il deambulatorio è quello spazio che, prolungando le navate laterali, passa intorno al presbiterio e si ricongiunge con un semicerchio alla navata opposta. Veniva molto usato. e anche nella pianta vediamo proprio la ricchezza di questo tipo d'architettura. Ora la cattedrale di Chartres è famosa anche per la sua facciata, che presenta due torri non uguali. Questo potrebbe suonarci strano e sicuramente in una mentalità classica potrebbe configurarsi quasi come un errore. Però in realtà, come in altre occasioni abbiamo detto, in questo periodo la perfetta simmetria non era poi un valore così fondamentale. Nel senso che le due torri sono state costruite in due periodi differenti, da due maestranze differenti e ognuna ha messo in risalto le proprie capacità costruttive, il proprio modo di vedere e di sentire, anche se in modo differente magari dall'altra torre già esistente. Ma questo faceva parte proprio anche della cultura medievale, che non era sicuramente una cultura classica, dove appunto la simmetria, la regolarità, questo l'abbiamo visto anche nelle decennità medievali, non era poi un principio irrinunciabile. Vediamo anche la cattedrale di Canterbury, è anche questa molto ricca sia nell'esterno che nell'interno, da questi fasci di pilastri, da queste decorazioni, bassorilievi e quant'altro, che rendono proprio questa struttura molto verticale e molto ricca. stesso discorso per la cattedrale di Strasburgo, in questo caso la seconda torre non è stata proprio ancora realizzata, e anche nella cattedrale di York c'è questo grande verticalismo e questo slancio verso l'alto. Cattedrale di Notre-Dame a Parigi, una delle chiese più famose e anche più visitate, anche qui nella pianta vediamo questo utilizzo del deambulatorio, questo permette alle navate di girare intorno al presbiterio e anche all'interno questo grande modo di decorare, facciata sviluppata verticalmente con un ampio uso di archi rampanti che alleggeriscono molto la struttura. Bene, che cosa succede in Italia? In Italia, anche perché l'Italia era molto così ancorata all'arte romanica, è stata la culla del classico per tanto tempo, il gotico arriva un pochino in ritardo e si sviluppa anche per meno tempo perché poi dopo fiorisce subito il rinascimento. In particolare, i primi esempi gotici sono le abbazie cistercensi che è un modello di costruzione che veniva importato dalle abbazie cistercensi francesi. Poi successivamente il gotico in Italia si sviluppa con delle caratteristiche proprie. Qui vediamo a destra il Duomo di Orvieto. Sicuramente viene utilizzato l'arco a sesto acuto ma in modo meno massiccio del resto d'Europa quindi coesiste spesso anche con degli archi a tutto tondo. Anche le finestre sono più piccole e l'architettura è sempre un'architettura decorata ma spesso a posto di basso rilievi vengono messe anche delle pitture come possiamo ben vedere nella facciata del Duomo di Orvieto. Possiamo quindi dire che spesso gli elementi gotici europei coesistono insieme agli elementi tipici della tradizione romanica. Altro esempio è la chiesa di San Francesco ad Assisi che è caratterizzata soprattutto dall'unica navata al suo interno dove la decorazione non è data né da vetrate né da pinacoli pilastri a fascio o quant'altro ma dagli affreschi che sono stati in questo caso realizzati da Giotto. Igualmente Santa Croce a Firenze è una chiesa dove appunto si può vedere di come i principi e il codico sono un pochino, diciamo così, attinuati e coesistono un po' con il romanico. Diciamo qualcosa anche sulla chiesa di Santa Maria del Fior a Firenze il Duomo di Firenze perché questa chiesa ha una storia particolare e diciamo che con questa chiesa poi grazie alla cupola che realizzerà Brunelleschi inizierà poi il rinascimento fiorentino e il rinascimento italiano. Questa chiesa che è una chiesa gotica appunto però queste due differenze la prima appunto come ho detto la cupola realizzata da Brunelleschi che dà il via al rinascimento italiano e anche la facciata che è stata realizzata nel 1800 quindi con uno stile diciamo gotico in questo caso lo definiremo neocotico perché non è diciamo così gotico originale e per quello che riguarda l'Italia del Sud anche qui ci sono degli esempi particolari citiamo velocemente il Duomo di Monreale in Sicilia che è caratterizzato appunto dai principi dell'architettura gotica ma che sono anche filtrati con dei principi un pochino più arabbeggianti sia nelle decorazioni nell'utilizzo dei mosaici e in altri cioè la configurazione la posizione geografica influisce sempre molto anche perché ricordiamoci sempre che queste strutture necessitavano delle maestranze particolari per essere realizzate per cui il modo di costruire delle maestranze il modo di anche di concepire l'architettura da chi le dirigeva di fatto andava a influenzare notevolmente la realizzazione per cui nel Sud dell'Italia ovviamente la parte che è a contatto con tutta la civiltà diciamo così araba e l'architettura ne risente e quindi si possono appunto notare le differenze con il resto con il resto d'Italia su questo discorso possiamo dire anche come il Duomo di Milano per esempio un'architettura gotica che è molto più simile a quella del nord Europa proprio perché la posizione geografica di Milano tendeva ad avere dei scambi anche culturali con il resto dell'Europa bene vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro e buon lavoro